Tra 15 e 20 milioni difficili da contare su 80 Le maggioranze possono spiaggiare le minoranze Tutto è stato dai nuovi movimenti di estrema destra e Putin si pone quasi come il leader di tutto questo movimento di estrema destra Una svolta, una svolta che è stata provocata prima dalla luce Il tema liberale che io cercò di vivere in vuoto ha costretto le minoranze all'invisibilità E qui siamo a Bosetti che è un altro maestro di filosofia in questi anni ci impiega sempre e lo seguo sempre con grande attenzione Noi di urdi che sono diversi di lingua E direttamente